Vitamin Act è un'azienda che produce integratori 100% naturali, no GM, prodotti in Italia. Fino a 4 anni fa giocava a calcio a livello agonistico, però a causa di un infortunio ho dovuto abbandonare il percorso. Durante la mia degenza ho iniziato l'assumo di integratori. Da qui è iniziata la passione di crearne dei nuovi 100% naturali. In poco tempo l'azienda si è ingrandita e oggi abbiamo tantissimi giovani collaboratori. I nostri prodotti sono energetici, drenanti e utili per il benessere personale. Per questo collaboriamo anche con Nova Neuro dell'Università di Genova. Abbiamo iniziato a vendere su Amazon da subito e l'abbiamo scelta insieme al nostro sito come unici canali di vendita. Amazon ti permette di vendere in tutta Europa sfruttando i vantaggi della sua rete logistica. Grazie all'opinione diretta dei clienti riusciamo a migliorare i nostri prodotti e i servizi. Sono orgoglioso del mio staff e per me il successo di questa azienda è una vittoria.